Andiamo a compilare la domanda per il concorso per titoli di esami del personale del docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Dunque una volta entrati, avete visto nel primo tutorial come fare ad entrare nella piattaforma, la prima istanza messa in lista ed aperta è proprio quella del decreto ministeriale 205-2023, che è il concorso a titoli di esami del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e posto di sostegno. E ai sensi dell'articolo 3,7 appunto del decreto ministeriale suddetto. Andiamo a compilare la domanda. Si entra immediatamente nella domanda che per adesso è non inserita, vedete in alto lo stato della domanda, e che ci sono ancora 29 giorni e 8 ore per la scadenza dei termini di presentazione. La domanda, intanto nella prima pagina c'è un'informativa che comunque va letta per bene e con attenzione, perché ci sono tutte le avvertenze, l'informativa sul trattamento dei dati personali, e quindi alla fine di questa informativa importante vi verrà chiesto di prenderne visione. Vedete questo tasto, questo link verde va cliccato per presa visione, in modo tale che adesso si può passare alla pagina successiva, cioè a scegliere la regione andando avanti, si può proseguire. Se non si fa la presa visione il sistema non procederà avanti, invece così andrà avanti e quindi andrà a scegliere la regione, che può essere scelta dall'elenco che vedete di tutte le regioni, eccetto il Trentino e la Valle d'Aosta, che vedete qui in grigio e non in blu come tutte le altre, perché sono regioni a statuto speciale per cui non è bandito questo tipo di concorso. Il docente dovrà scegliere tra le regioni che ci sono e per esempio potrà scegliere la Sicilia, ecco andando su Sicilia clicca Sicilia e si illumina di verde la Sicilia, se invece vuole scegliere un'altra regione tipo la Lombardia ci clicca e si illuminerà di verde, si andrà a colorare di verde la Lombardia, come per esempio può venire per la Calabria o per la Campania o per il Lazio. Ecco, rimaniamo sul Lazio, scegliamo il Lazio, quindi si potrà fare la conferma delle tue scelte del Lazio. Ok, abbiamo deciso di lasciare il Lazio e per cui possiamo andare avanti e inserire i propri dati. I dati sono già inseriti, se non fossero inseriti li inserite manualmente, poi fate di nuovo avanti ed entrate nel campo delle sezioni, cioè tutte le sezioni da compilare. Ecco, notate una cosa che è necessario, prima di inoltrare la domanda che è questo tasto, compilare quantomeno i campi obbligatori. I campi obbligatori sono quei campi che sono con l'asterisco, ecco, è obbligatorio chiedere una classe di concorso, come obbligatorio fare le altre dichiarazioni, mentre tutto il resto diventa facoltativo. Però è sempre molto importante compilare soprattutto l'inserimento di altri titoli valutabili. Come fare diventare verde questo stato di obbligatorietà della classe di concorso richiesta? Si va su questo tasto più, si clicca sul più e si entra sulla classe di concorso e il titolo di accesso che mi dà accesso alla classe di concorso per cui voglio partecipare. Scelgo le classi di concorso, vedete ce l'ho in elenco, posso scendere. Per esempio la mia classe di concorso per cui voglio partecipare è la classe di concorso matematica e fisica. E faccio quindi, aggiungo, ecco che ho aggiunto matematica e fisica come classe di concorso per cui voglio partecipare. Da questa classe di concorso devo scegliere la tipologia del titolo di accesso. Ora, come ci accedo a questa tipologia? Con l'abilitazione specifica? Allora vado a cliccare abilitazione specifica se sono abilitato. Oppure voglio partecipare con il titolo di laurea e 24 CFU? Ci clicco qui e vado con il titolo di laurea e 24 CFU. Chiaramente mi dice che il titolo su indicato costituisce titolo di accesso alla classe di concorso in quanto ho conseguito ai sensi del DPR 19 e dunque devo slasciare questo e dire poi come l'ho conseguito, dove l'ho conseguito. E posso dire che per esempio l'ho conseguito con laurea e vecchio ordinamento con titolo di studio laurea in matematica, la votazione 110 su 110, su una base di 110 e vedete che subito automaticamente mi fa la votazione convertita in centesimi. Scendo e poi devo dichiarare che se nel caso il titolo di laurea non avesse avuto il punteggio avrei dovuto dichiarare che nel titolo non è indicato un punteggio e mi accontentavo di 3,75 punti. Poi devo mettere la data del conseguimento. Nel caso mio, per esempio, vado a prendere un 1992, 18 giugno. Il luogo del conseguimento metterò l'università, per esempio, degli studi di Messina. E poi devo dichiarare, siccome avevo detto di possedere anche i 24 CFU dovrò dire che dichiaro di avere anche i 24 CFU e di averli conseguiti in data, per esempio, giugno 2021. Ateneo, Università degli Studi di Cosenza. Ecco che ho praticamente, posso salvare a questo punto, ho dato tutti gli elementi, facendo salva, la mia classe di concorso richiesta acquisisce un titolo verde per cui potrei procedere con, eventualmente, questo per il posto comune, per la partecipazione alla classe di concorso, sono, diciamo, a posto. Se voglio, se ho un titolo di sostegno e voglio partecipare anche ai posti di sostegno basta che io faccio aggiungo, dirò di avere un titolo di sostegno ADSS secondo grado Lo faccio come aggiungi, anche questo mi viene aggiunto, dovrò dire dove ho ottenuto questa specializzazione in che termini ho ottenuto questa specializzazione Per esempio, l'ho ottenuta tramite il decreto ministeriale 249 articolo 13 e dunque faccio questo con una votazione di 100 su base 100 Me lo converte, chiaramente, non devo fare qui e poi dire, per esempio, che l'ho ottenuta nel 2022 il 28 di giugno luogo Università Terranea di Reggio Calabria Non è conseguito all'estero, dunque non devo indicare altro di nulla e dunque devo fare salva Facendo salva avrò anche questo titolo obbligatorio fatto Prima di inoltrare dovrò compilare anche l'altro titolo obbligatorio Dunque andare su altre dichiarazioni Le altre dichiarazioni sono ovviamente la dichiarazione di cittadinanza di essere cittadino italiano lo devo slasciare e mi diventa verde di godere dei diritti politici e devo indicarlo di eventualmente per coloro che sono soggetti all'obbligo di trovarsi in posizione regolare nei confronti del servizio di leva chi l'ha fatto fa salva chiaramente le donne non devono slasciare questo delle liste elettorali di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Reggio Calabria e quindi sono a posto l'idoneità fisica di essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle funzioni di non avere riportato condanne penali di non avere procedimenti penali in atto di non essere mai stato destituito gli ausili non ne ho bisogno e dunque di posso non considerare questo tempo questo punto invece obbligatorio è il versamento e dunque di avere effettuato il versamento e qui dovete fare indicare il file del versamento ci sarà un tutorial dedicato espressamente a come si paga il servizio amministrativo di 10 euro dopodiché trattamento dei dati personali è obbligatorio e di aver preso a questo punto essendo tutto a posto la domanda è sostanzialmente fatta eccezione che non ho inserito la ricevuta del pagamento è a posto speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori vi saranno altri tutorial a partire proprio quello dal pagopà del versamento dei diritti di segreteria che riteniamo molto importante arrivederci grazie a tutti